Scriviamo così. Agente Romano? Eroe di tutto il mondo a testimonianza della qualità della vita. Ciao Avenger, sei pronto per il tuo nuovo look? Ah, va bene, ma tornerai sicuramente. Grazie a tutti. Qualsiasi cosa ti serva, posso dartela a bere. Ok Junior. Qualcuno ha preso di nuovo il mio tè preferito. Ti ricordi le frecce Boomerang? Continui a ricordarmele. Ehi, porta rispetto per l'attrezzatura. Ma io rispetto l'attrezzatura. L'uomo che la porta... Ehm... Ahia! Ehi, Kate! Ehi, tu e Thor fate ancora le gare con le sedie girevoli. Non da quando siamo andati a sbattere contro Steve? Ah, che peccato. Non vedevo l'ora di distruggerti. Ahia! Khi! No! Ma... L'uomo che intraIGHT! No! 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 Ma... No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spara! Hai mai incontrato Captain Marvel? Una volta ci siamo incontrate in bagno. Vale. Ah, oddio! Credo che morirei. Non ho saldi. Nessun segno di deformazione. Stavolta stanno reggendo la pressione. Sì! Ricordati di farmi avere il rapporto giornaliano. Devo consegnarli fra cinque minuti. Ho appena ricevuto i dati da Banner. Interessante, eh? Wow! Non me l'aspettavo. C'è molto da studiare. Non c'è il server se vuoi dargli un'occhia. Codice dati 4156. Ehi, grazie per i tappi per le orecchie. Mi sono sentito in colpa. Sono stati utili? Eh, diciamo. Ora sembra una tempesta di fulmini in lontananza. Concilia il sonno, in realtà. Ah, mi fa molto piacere. Alla prossima, Esco. Ehi, Kate. Tenimi la postazione, Kat. Per quanto tempo stavolta? Non posso saperlo. Ti trovo bene, Nat. Tasha, Black Widow, non so mai come chiamarti. Vanno bene tutti e tre. A non darmi tutte queste scelte. C'è roba. Grazie a tutti. 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 Sono in pochi. Sarà una passeggiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci penso io a tutti quanti. Prendi il numero e mettiti in fila. Temici in arrivo. Tutto qui. Grazie a tutti. 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 E per il mio prossimo. Grazie a tutti. 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 Sfira, concentrati! Sfira, concentrati! Sfira, concentrati! La squadra non è più una minaccia. La squadra non è più una minaccia. Salute! La squadra non è più una minaccia. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. La squadra non è più una minaccia. Dovete sconfiggere quei nemici. La squadra non è più una minaccia. 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 I nemici sono stati sconfitti. I nemici sono stati sconfitti. la squadra non è più una minaccia. non è più una minaccia. la squadra 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 non è più una minaccia. ci penso io a tutti quanti! la squadra non è più una minaccia. la squadra non è più una minaccia. la squadra non è più una minaccia. Grazie a tutti. 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 Sorpresa! Grazie a tutti. I nemici sono stati sconfitti. Abbiamo raggiunto l'ultimo piano dell'alveare. Mantenete il controllo della rete. E così è così che mi infiltri nel sistema di sicurezza IM. Grazie a tutti. Prendi il numero. Prendi il numero e mettiti in fila. Ti ho preso! L'hai spacciato! Dirigetevi al terminale. Dirigetevi al terminale. Ci penso io a tutti quanti! la rete IM è un sistema di autenticazione. inizio a più punti. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. inizio l'accesso. Inizio l'accesso. Protocollo di spegnimento in corso. Mi state aiutando. Grazie. Sono nel sistema di sicurezza dell'IM. L'IM sta provando a respingermi dal sistema. Protocollo di spegnimento avviato. Hai provato? Non benissimo ma comunque. Inizio l'accesso. Mi state aiutando. Grazie. Inizio l'accesso. Protocollo di spegnimento in corso. l'IM sta provando a respingermi dal sistema. Mi state aiutando. No! Grazie. Protocollo di spegnimento avviato. Sono nel sistema di sicurezza dell'AIM. Sono entrato nel sistema di sicurezza dell'AIM. Ottimo lavoro. Questo alveare è offline, ma dobbiamo ancora trovare gli altri. Grazie. 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 Grazie.